Nove assessori e tre consiglieri con funzioni specifiche. Il sindaco Pierluigi Biondi ha sciolto i nodi sulla composizione della nuova giunta comunale per quel che riguarda le deleghe, perché per il resto erano già state individuate le figure. Il sindaco tiene per sé, come già era, la cultura Restart. Assegna consiglieri Daniele Ferella, Luigi Faccio e Livio Vittorini tre funzioni. Il primo, rapporti tra giunte e consiglio, il secondo, politiche per la montagna, il terzo, valorizzazione dell'aeroporto e attività di sostegno alle imprese del cratere 2009. Raffaele Daniele, che resta vice sindaco, mantiene le vecchie deleghe, ciò è commercio e annessi, ricostruzione e beni pubblici, piano di sviluppo Gran Sasso tra le principali. Erzilia Lancia prende le deleghe dell'Aquilio, turismo, gemellaggi, politiche giovanili e del lavoro, informatizzazione, innovazione tecnologica. Vito Colonna mantiene opere pubblica, patrimonio e sport, Laura Cucchiella, bra personale, polizia locale, sicurezza stradale, vivibilità e una funzione nuova, valorizzazione delle frazioni. Fabrizio Taranta mantiene ambiente, protezione civile, videosorveglianza e cimiteri. Francesco De Santis, l'assessore più giovane, avrà politiche urbanistiche, edilizia, pianificazione, mentre Roberto Tinari avrà la ricostruzione privata. Nelle ultime 48 ore con il sindaco Biondi ci siamo confrontati immediatamente sulle priorità da portare a casa entro la fine dell'anno. Adesso l'impegno di tutta la Giunta, ma in particolar modo il mio in un settore così difficile, ma bello e affascinante, sarà quello di riprendere tutto ciò che è rimasto bloccato negli ultimi mesi. Per quanto riguarda la pianificazione territoriale, immaginare una città nuova, come abbiamo detto in campagna elettorale, una città territoriale legata anche ai temi dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, è legatissima perché è una delega davvero importante, una delega pesante, così l'hanno sempre definita. Ci sarà tanto da studiare, però per fortuna la Lega è una squadra forte, coesa e continueremo a lavorare insieme ai consiglieri comunali, al sindaco Biondi e anche agli altri assessori che finalmente possiamo confermare un'aggiunta di livello anche questa volta. A Manuela Turzini poi le politiche sociali, educative e scolastiche, asilinido, politiche abitative per l'immigrazione, assistenza alla popolazione, partecipazione ai politiche per studenti universitari e infine l'assessore esterno, l'ex dirigente comunale Paola Giuliani, prende le partecipate, contenziosi avvocatura, trasporti e infrastrutture, mobilità, politiche comunitarie e rapporti con le istituzioni, smart city e servizi demografici.